Nelle Metamorfosi di Ovidio si racconta che Glauco, figlio di Posidone, dopo aver mangiato un'erba miracolosa ed essersi tuffato in mare, si trasformò in un semidio simile a un tritone. Questo, nuotando verso le coste di Zancla, l'odierna Messina, incontrò la bellissima ninfa Scilla. La giovane, impaurita da questa strana presenza che le mostrava il suo interesse, fuggì spaventata rifiutando il semidio. Glauco dunque, seppur deluso, non demorse e raggiungendo la maga Circe, chiese a lei un filtro d'amore. La maga si innamorò però di Glauco e non riuscendo a sedurlo o a dissuaderlo, decise di trasformare la sua frustrazione in vendetta. Si ricò anche lei presso le spiagge di Zancla e versò nella costa una pozione, dove appunto si bagnava Scilla. La povera ninfa, non appena si tuffò, si trasformò in un orribile mostro, scappò il più lontano possibile da Zancla e si rifugiò nella costa calapra, appunto a Scilla. Qui, per vendicarsi di Glauco, decise di istruggere ogni imbarcazione, divorandone l'equipaggio, visto che a causa di un uomo la sua vita venne totalmente rovinata, pur non sapendo che fu Circe la vera cattiva di questa storia.